La prima delegazione da Shanghai è arrivata in Riviera del Corallo per incontrare l'amministrazione e gli imprenditori locali. Alghero diventerà lo scenario suggestivo di un reality show sui matrimoni cinesi. L'evento, promosso dal presidente di Conf Turismo Giorgio Macioccu e della Holding YI di Shanghai, si concretizzerà in tempi brevi con l'arrivo delle prime coppie dal sollevante e la realizzazione del primo video. Presenti all'incontro a Stelle Mosca, Gavino Sini, presidente della Conf Commercio, Giorgio Macioccu, l'assessore al turismo Mario Conoci e i vertici della delegazione della Tourist Information Service e della Rosewood Informalities.